20 giorni di fermo amministrativo e una multa fino a 10.000 euro. È questo quanto è stato notificato alla Open Arms, la nave ONG arrivata nel porto di Massacarrara martedì mattina. Il provvedimento è scattato perché la nave, dopo un primo soccorso di 26 migranti, non ha proseguito direttamente verso il porto a Puano come indicato dall'autorità, ma ha effettuato un'altra operazione di soccorso, come illustra il primo ufficiale di coperta della nave, Angelo Serim. Dopo il primo salvataggio ci siamo diretti come indicazioni del MRCC Roma al porto di Carrara e durante la navigazione abbiamo ricevuto l'avviso dall'ANFON, dopo confermato anche dall'aereo di Sibur, di un altro mezzo in difficoltà. E poi quando noi abbiamo chiesto informazioni se qualcuno stava seguendo il caso, ci hanno detto che la nostra assistenza non era necessaria perché c'erano dei mezzi di soccorso della zona dell'autorità competente. Allora abbiamo chiesto informazioni, quali sono questi mezzi, quando arriveranno al dato e non c'è stata data nessuna informazione. A quel punto abbiamo deciso di verificare la situazione e fortunatamente siamo riusciti ad incontrare l'imbarcazione e adesso se stiamo parlando di un problema amministrativo potremmo invece parlare di persone che si sono affurate. A portare la propria solidarietà all'equipaggio sulla Open Arms sono saliti il deputato PD Simiani insieme alla sindaca Ridi, la vicesindaca e il segretario del PD comunale. Una situazione, quella dei fermi amministrativi, che sta colpendo diverse navi impegnate nel soccorso dei migranti. Non è solo noi, anche altre ONG nell'ultima settimana sono state coinvolte in questi fermi amministrativi la Aurora Sar e il CI e quindi tre navi non potranno fare quello che è necessario assistere a queste persone in alto mare senza nessun tipo di sicurezza.